Allora figliolo, ascolta attentamente quello che sto per dirti, perché la vita non farà che darti lezioni giorno dopo giorno finché campi e dalle lezioni bisogna imparare, no? Non conta come fai, ma quando e come lo fai. E a chi lo fai o con chi lo fai? Se nessuno vede, non è successo. Jimmy, ha sei anni. Pensi che sia il caso di parlargli di queste cose? Sì. Jimmy, quando sei uscito da Alcatraz? Oh, sarà quasi dieci anni fa. Sono molto felice di rivederti nel quartiere figliolo. A pochi giorni dalla prima di Mad Max Fury Road a Cannes, il regista George Miller promette già dei sequel. Miller ha intenzione infatti di proseguire la serie che lui stesso ha iniziato nel lontano 79 con Interceptor, con due nuovi capitoli. Il primo ha già un nome e una sceneggiatura, Mad Max The Wasteland, mentre il secondo sarebbe per ora solo in forma di racconto, stando a una recente intervista dell'autore. Il sequel non ha ancora ricevuto il via libera, ma una risposta arriverà molto molto presto e io vi terrò naturalmente aggiornati. Al prossimo video, ciao a tutti!